Non ho capito niente, poca, non mi piace, se ci trova dentro insetti guarda No, no, ti è, ti è, shushwe Bebbi da tu No E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video e con la seconda parte del video delle monster Mi raccomando, se non avete visto la prima parte, andate subito a vederla Subito Oggi abbiamo qua 8 monster, come nello scorso video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Però, a differenza dello scorso video, questa volta abbiamo delle monster particolari Non so, voi ragazzi avete mai visto una monster così? Sono monster che si trovano nel supermercato, ma solo nei supermercati grandi Mentre nello scorso video c'erano monster più o meno trovabili nel supermercato Questo video è per le monster più rare Parte magari questa e questa Le altre io non le ho mai provate, neanche tu immagino Solo questa Anche questa l'avevi provata No Sì, nel video del kebab Avevo preso questa qua di Louis Hamilton, l'avevamo provata nel video della... Ah, è questa, non questa Avevo letto Louis Hamilton, invece c'è scritto Ayus Lemonade Oltre a queste qua, abbiamo due ultra rare che abbiamo preso in un negozio a Udine fornitissima In cui non ci sono solo monster, ma ci sono anche Caramelle Sì, caramelle, prodotti americani Tra l'altro abbiamo fatto un video un bel po' di tempo fa Non lo so, credo In cui proviamo le caramelle schifose Io le provo perché tu... È vero? Ragazzi andatemelo a rivedere che fa da ridere Cioè dammi che mangia le caramelle schifose Le caramelle Quindi abbiamo già provato dei prodotti di questo negozio Ma ci sono di tutto e di più Quindi scriveteci sotto nei commenti se volete altri video con prodotti di quel negozio Ovviamente ve lo lasciamo qui sotto in descrizione così vi fate un'idea Ragazzi, secondo voi quali sono le due più rare? Allora sono queste due perché sono le più piccoline Sono costate, non dico cosa È vero? Sono più piccole? Sì, sono più piccole Ma te l'ho detto anche prima Sono costate un fracco Cioè in pratica tutte le monster che ho preso Quindi tutte queste, quelle dell'altra volta, 14 in totale Mi erano costate 18 euro Vi dico solo che queste due, solo due, sono costate di più Vi dico solo questo Ma la signora del negozio ci ha assicurato che queste due Sono tra le più rare al mondo Quindi le lasciamo ovviamente per ultime così voi vedete tutto il video E voglio sapere anche se hanno un buon gusto o se è solo il design Lo scopriremo Ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito col video Andiamo a caso come l'altra volta Prendiamo a caso ovviamente lasciando per ultime queste come abbiamo già detto Voglio lasciare per ultime anche quelle un po' più particolari Iniziare Eeeh tutte allora, cioè scusami E poi allora iniziamo con questa Che questa l'abbiamo già provata Appunto E quindi andiamo sul sicuro Ragazzi iniziamo con quella di Valentino Rossi Che è gialla come la mia maglia Sì Questa qua, a differenza delle altre, questa granetta qua È aranciata Sì, aranciata Un po' meno gasata Sì, un po' meno gasata Ovviamente Cosa mi copi? Ragazzi sapete i papagalli? Uguale lui Ragazzi ovviamente faremo una top 3 anche di questa seconda parte E la metteremo in confronto con la prima parte Io questa gli do un 6 e mezzo Niente di che Sante Dalla MotoGP passiamo alla Formula 1 E andiamo da Lewis Hamilton E il campeon Poca, non mi piace Questa mi ricordo che mi piaceva un bocca Ma ma no O questo ha un odore pazzesco Sasi Aspetta, non dirmelo Sa di limone Sa di limone Non è limone, tè Eh, tè al limone Alla pesca, tè alla pesca Guardi, tè alla pesca e tè al limone Limone Vabbè Solo tè al limone Andiamo all'assaggio, Dani Sa di tè alla pesca? Frizzante Frizzante, non mi piace A me piace un botto questo Questa mi piace, un 7 e mezzo Sei Rettifico, voto 7 più Uuu Anche questa mi ha detto un mio amico che è rara Che l'ha trovata solo in Spagna, mi ha detto Non gasata Come? Dove c'è scritto? Ah Non gasata Non gasata Forse la prima è non gasata A este limone Andiamo all'assaggio della prima rara Sa tipo di tè nero Vero, non è proprio È tè nero Ma è piacevole Allora, per me è un 6 e mezzo, dai Per me è un 7 e meno, dai Gusto? Mango Mango, questa mi ispira Ultrafiesta mango Secondo te, quante Monster ci sono solo in Europa? 20 22 22 22, 22 Monster solo in Europa Questo è il design delle meduse Oh comunque questa seconda parte anche dal punto di vista del design, il design è bellissimo Non sono un po' di classico Questa è mediterranea Questa dovrebbe essere tipo limonata Questo è giallo elettrico, giallo lime Neutra Sì Non è molto forte questo Poco gasata A me sembra quasi anacquata Non lo so, non mi dice niente 6 7 6 più Non mi dice niente Anche Eh, questa Questa Ehi, non ti dare Subito Oh, è rosso Sì Questa è bellissima Questa dal punto di vista del design Una delle mie preferite A parte ovviamente dei due ospiti speciali Un sapore assurdo È mirtilli tipo Non pensavo fosse così È buona Buona, cavolo Sì, frutti di bosco, mirtilli Sì Il gusto è particolare Ma è buono Un arido a un 7 e mezzo Sì, lo metto a pari merito con lui Sì, lo metto a pari merito con lui Sì, lo metto a un 7 e più È arrivato il momento Dei due grandi colossi di questo video Andiamo Quella arancione Perché Quell'altra secondo me è assurda Allora, questa l'apri tu Io l'apri quella verde Perfetto Questa è Monster Energy Dragon Ice Tea Dragon Ball No, forse questa è spagnola Pensavo fosse cinese Perché c'è un dragone Mi potrei sbagliare Andiamo all'assaggio di questa Colore Colore pesca Questo qua è quello alla pesca Quindi magari quello un po' Col sapore più classico Chi lo sa? Sapore di sale È un tè alla pesca Tipo aromatico Senti che roba Di retrogusto È un tè alla pesca Con un retrogusto aromatico Come se fosse speziato Non lo so Un 6 e mezzo Sì, anche io do un 6 e mezzo Non è il gusto che la renderà Rada Ma è estetica Sì, va beh, l'estetica Ah, Dani Infatti qua c'è scritto 473 millilitri Cioè, è stranissimo Qua c'è scritto 500, no? Qua 473 Cioè, è assurdo Ragazzi, andiamo con l'ultimo assaggio Juice Monster Energy Plus Juice Rio Punch Non ho capito niente Quello l'ho letto Quello che c'è scritto Buonissima questa Questa mi piace Non ti piace? No Dio, non mi piace niente Questa è veramente buona È tipo succo Succo tropicale Sembra Leggermente frizzante Questa è un 7 e più Diciamo che Sono comunque due Bibitte particolari Non sono come le altre Non sono comuni Si sente che hanno qualcosa di diverso Di strano Boh, io ho sempre un 6 e mezzo Ragazzi, abbiamo finito Tutte le Monster Tutte 16 Fateci sapere sotto nei commenti Qual è la vostra preferita E adesso facciamo la top 3 Anche di questa seconda parte del video Ma cosa fai che Se non più bicchieri la tua mamma Ragazzi La mia top 3 È tra queste 3 Ma sono straindeciso Perché sono tutte 3 7 e più Questa la metto terza Questa la metto prima Ma perché è quella più comune Quindi per essere comune È buona E questa seconda Prima Lewis Hamilton Secondo questa rossa E terza Quella super ultra rara Dubrasili La mia classifica È questa Perché boh Valentino Rossi raga Mi dà la moto poi Prima Valentino Rossi Prima Valentino Rossi Poi la scomette E poi quella al limone Non gasata Ma quindi Ora Il vero dubbio Il grandissimo dubbio Qual è la migliore Monster In assoluto per te Quella bianca Quindi la tua Monster preferita È quella bianca Ve la lasciamo qui sopra In sovraimpressione Perché non ce l'abbiamo qua Ce l'abbiamo di là Ma ne abbiamo voglia di vedere La prende Tu non hai mai voglia di fare niente È questa qua È questa qua Io invece Scelgo quella rossa Ragazzi Il video finisce qua Ringraziamo il negozio Pop Sweets & More Di Udine Che ci ha dato Possibilità Di assaggiare Queste due Monster Super ultra rare Scriveteci qui sotto Nei commenti Se anche voi Avete mai provato Una Monster Ultra rara Inoltre commentate Tra tutte e 16 Le Monster Che abbiamo provato Qual è la vostra preferita In questo momento Io sarò in vacanza Quindi buone vacanze A me Arriviamo a 30 like Per un prossimo video E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao